Un baby pit stop nel charity shop di Fondazione Mona Lisa Ollus a Montevarchi. Qui le mamme possono allattare, cambiare il proprio bimbo e perché no fare un acquisto solidale. È molto importante che ci siano questi punti dove la mamma può allattare e stare tranquilla con il bambino perché ovviamente non è che ci si può chiudere in casa solo perché il bambino va allattato. Bisogna fare sempre la stessa vita di tutti i giorni però allattando anche con facilità. Un progetto nato dalla collaborazione con Unicef che porterà a tante altre iniziative a sostegno dell'infanzia. Dimostriamo che siamo vicini ai ragazzi, dimostriamo che non abbiamo fatto un negozio ma abbiamo fatto un charity, una cosa nuova. Abbiamo imparato anche noi perché possiamo fare cose belle insieme e questo lo dimostra il fatto che siamo tutti qui con una mamma che allatta e un ospedale che ci sostiene. È una cosa molto bella, è un giorno di festa. Come sapete l'ospedale del Valdarno della Gruccia sarà presto accreditato come ospedale amico dei bambini, iniziativa Unicef che riconosce il nostro grande sforzo in questi anni per la promozione dell'allattamento al seno. E Mona Lisa si è dimostrata sempre molto sensibile a questo tema anche con la donazione delle mascherine al reparto di pediatria per i bambini. E questo è un segno di interesse aggiuntivo a questo tema. La mamma che ha avuto l'opportunità di poter allattare al seno so quanto è comodo e importante poter avere un punto amico, un luogo accogliente, protetto, per potersi fermare nel caso in cui i nostri bambini abbiano bisogno di essere allattati. Bene, la fondazione Mona Lisa ci ha pensato, come pensa sempre in maniera innovativa, a venire incontro alle mamme e ai bambini. E sono veramente felice di ospitare nella mia città il primo pit stop che darà l'opportunità a tante mamme di avere un luogo amico, di potersi fermare e di potersi riposare allattando i propri bambini in un ambiente adatto. Quindi un modo per finalmente guardare all'esigenza delle mamme e delle donne. Insomma questo progetto va avanti e si evolve. Sì, il charity è stato aperto il 22 gennaio, quindi in piena zona rossa. Diciamo però veramente la comunità del Valdarno di Montevarchi ha risposto in modo dinamico di fronte al nostro negozio. Che poi lo chiamiamo negozio, ma in realtà è una realtà molto dinamica, perché appunto sono accolti i bambini che raccontano come vogliono migliorare l'ambiente. Ora è diventato un baby pit stop Unicef, quindi diciamo veramente un charity per una buona causa e quindi al di là dell'idea del negozio stesso. Unicef si occupa dei bambini d'Italia anche nel mondo. Non ci dimentichiamo che muoiono 120 mila bambini al giorno per malattie come morbillo, per tosse che con una semplice vaccinazione si potrebbero prevenire. Muoiono di fame milioni di bambini. Morivano negli anni scorsi 22 mila al giorno, ora siamo arrivati a 17 mila. È già ancora un'eresia, perché non si può pensare. Però qualche gocciolina è arrivata, quindi poi non la faccio lunga, ma pensiamo ai bambini soldato, alle bambine spose, perché ogni giorno bambine anche di 10-12 anni vengono fatte sposare per interesse e poi muoiono di parto o di altre complicazioni. Ora inizia questo bellissimo percorso insieme. Abbiamo detto faremo degli eventi sia di advocacy con le scuole, con altri, con la popolazione, eccetera, ma anche di raccolta fondi. Studieremo il sistema insieme e siamo contenti di questo percorso bello. Grazie.